qua ragazzi come vedete sono riuscito ad andare a prelevare un sacco di volte sempre 20 centesimi 20 centesimi 20 centesimi su paypal andando ad effettuare questo metodo grazie a due applicazioni che ho già portato in questo canale di youtube le due applicazioni sono cashway e l'altra è cashbox questo metodo ragazzi lo sto ancora testando e attualmente sta funzionando questo qua è il mio secondo smartphone e attualmente sto guadagnando in modo automatico lasciando poi lo smartphone comunque sottocarica lui praticamente deve rimanere acceso per far sì che la strategia funzioni e facendo questo ragazzi si sta guadagnando in automatico e si sta duplicando il guadagno delle monete ma partiamo dall'inizio qua ragazzi come vedete sono nelle notifiche del mio smartphone guardate qua ho ricevuto praticamente un sacco di pagamenti da cashway e da cashbox grazie a questo metodo ovviamente ho installato anche paypal l'applicazione nello smartphone sto guadagnando praticamente ogni minuto soldi su paypal questo metodo di guadagno automatico e di raddoppio delle monete quindi questo trucco funziona con questa applicazione qua chiamata cashbox e funziona con cashway che dopo andiamo a vedere praticamente sono due applicazioni che si possono scaricare dal play store di android andando a scaricare e installare nel vostro smartphone andando a premere poi su air money andrete a scaricare i giochi che vi consiglia l'applicazione e verrete ricompensati per ogni minuto in monete per esempio questo gioco qua ci farà guadagnare fino a 15.000 monete ed ogni minuto ci darà 247 monete mentre stiamo giocando funziona solo andando a scaricare i giochi e le applicazioni che promuovono cashbox e cashway sono praticamente identiche alle applicazioni una volta poi che hai accumulato le monete nel tuo bilancio in alto sulla sinistra andando nel payout puoi andare a prelevare come vedete prelievo minimo 300 monete sono un centesimo di dollaro va tutto poi in base alle monete che avete andando poi a prelevare adesso non ve lo faccio rivedere un'altra volta ve l'ho fatto vedere già nel video precedente andando a prelevare dovete mettere la vostra email di paypal e riceverete i soldi all'istante andando poi nella history ragazzi qua come potete vedere oggi il 29 maggio ho iniziato questo metodo qua questa strategia qui che cosa vuol dire vuol dire che in modo automatico andremo a guadagnare monete anzi le andremo a raddoppiare e facendo questo ovviamente andremo a cumulare sempre più monete possibili e lasciando lo smartphone come avete visto prima sotto carica lo smartphone non si spegnerà dopo vi faccio vedere come e in più con un nuovo trucco andrete a raddoppiare tutte le monete quindi potete lasciare lo smartphone anche di notte acceso lui automaticamente andrà a generare monete e qua come vedete ho prelevato un sacco di volte proprio oggi adesso io ragazzi il trucco ve lo faccio vedere con cash way qua come vedete intanto mi sta dando sempre monete come vi ho detto cash bucks e cash way sono praticamente identiche personalmente per me è meglio cash way perché ha il prelievo minimo basso cosa vuol dire vuol dire che andando nel payout come vedete per prelevare un solo centesimo di dollaro ci vorranno solo 200 monete in cash bucks ce ne vogliono 300 e andando poi nella history ragazzi come vedete sono andato a prelevare un sacco di volte anche con cash way potrei ancora andare a prelevare andando nel payout come vedete vado sempre prelevare per esempio 20 centesimi di dollaro che sono 3810 monete andando nell'account in alto sulla sinistra ho più di 27.000 monete come funzionano queste applicazioni ve l'ho già detto nei video precedenti adesso passiamo subito a questo trucco il trucco è molto molto semplice prima di tutto dovete andare su air money vi porterà nel catalogo dei giochi andatevi a scaricare tutti i giochi che ci sono tutti li dovete scaricare tutti se vedete ragazzi che appena avete installato l'applicazione andate nel catalogo e c'è solo un gioco andate a scaricarlo una volta che l'avete scaricato ci avete giocato ritornate nel catalogo e dovrebbero comparire tutti gli altri giochi andateli a scaricare tutti dopo capirete il perché andando nei miei giochi troverete tutti i giochi che avete scaricato come funziona questo metodo andate nelle vostre impostazioni del telefono ok quindi andate su informazioni sul telefono andate in informazioni software andate a premere per 7 8 volte su versione build che cosa succede come vedete lui mi dice che non è necessario succede che ritornando nelle impostazioni dello smartphone io sto utilizzando un samsung succede che nelle impostazioni dello smartphone è saltata fuori una nuova opzione chiamata opzione sviluppatore ci andate a premere sopra qua ragazzi dove c'è scritto rimani attivo lo schermo non va mai in stand by se sotto carica solo così andate ad attivare queste opzioni qua vuol dire che se voi mettete sotto carica lo smartphone e lo smartphone è acceso su un'applicazione lo smartphone non si andrà mai a spegnere ok finché è sotto carica potete poi anche disattivare il tutto sempre dall'opzione sviluppatore una volta fatto questo ragazzi ritornate su cashway o cashbox e andate nei giochi che avete installato ok questi qua sono per esempio i giochi che ho installato ultimamente perché vi ho fatto scaricare tutti i giochi perché questo trucco non funziona con tutti i giochi adesso capirete quindi vado ad aprire per esempio un gioco o un'applicazione gioca ora quindi questa applicazione qua se la lascio aperta mi darà delle monete in automatico che cosa faccio io ragazzi vado in basso sulla sinistra invece di andare a chiudere le pagine vado a prendere la pagina con l'applicazione aperta ci vado a premere sopra e la vado a spostare qua in alto ok guardate cosa è successo adesso ho lo schermo diviso adesso ragazzi cosa devo fare vado ad aprire un gioco o un'altra applicazione che è presente nel catalogo dei giochi ok quindi vado ad aprire quest'altra applicazione qua praticamente che cosa sta succedendo ragazzi in modo automatico adesso stiamo raddoppiando le nostre monete perché cashbox o cashway andranno a monitorare le applicazioni che abbiamo installato nel nostro smartphone andrà a monitorare solo quelle che lui vi ha fatto scaricare per guadagnare le monete e andandole a aprire due contemporaneamente andremo a duplicare il guadagno delle monete e mettendo poi lo smartphone sotto carica lo schermo resterà sempre acceso e così facendo noi possiamo fare qualsiasi altra cosa ovviamente consiglio di fare questo se avete un secondo smartphone che non usate potete effettuare questo metodo per guadagnare in automatico e raddoppiare tutte le vostre monete come vi ho detto ragazzi non funziona poi con tutti i giochi perché non tutti i giochi non tutte le applicazioni hanno praticamente la condivisione dello schermo ok quindi andatevi a scaricare tutti i giochi o tutte le applicazioni e andate a testare quali sono i giochi e le applicazioni che hanno la modalità per la condivisione dello schermo una volta poi ragazzi che siete arrivati al prelevo minimo andate nel payout e andate a prelevare quindi convertire le monete in soldi veri queste applicazioni qua sono serie pagante i pagamenti sono istantanei avete appena visto un mega trucco per raddoppiare tutte le vostre monete e guadagnare in automatico se volete rimanere aggiornati su nuovi metodi e strategie per guadagnare soldi con le applicazioni ovviamente come vi ho detto noi faranno diventare ricchi iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati sulle prove di pagamento iscrivetevi al canale telegram noi ci vediamo nel prossimo video ciao da felix